Sì, alele, oh la la, ma chi è quel giocatore che con il numero 9 ha segnato Biotech? Ma ragazzi, ma riguardiamolo qua, ma che errore, ma che errore di Robin Olsen, ma vai! Di Francesco, ritirati, Donato Inglese, il malpifferaio, ritirati! Qua, dal pazzo del tubo è tutto, a tutti ragazzi!